Buonasera e ben ritrovati al nostro telegiornale. Partiamo con la crisi in Egitto. Dopo giorni di scontri, nella notte, il presidente Mohamed Morsi ha respinto l'ultimatum di 48 ore imposto dalle forze armate, con la richiesta ai politici di raggiungere un consenso e ascoltare le richieste della piazza. Morsi dice no. Il presidente egiziano non ci sta e nella notte respinge l'ultimatum dell'esercito al governo. Sono 48 ore per decidere e dare risposte al popolo e per trovare un accordo con gli oppositori. Altrimenti sarà l'esercito a proporre una sua roadmap, un processo con la partecipazione di tutte le forze politiche leali, compresi i giovani da cui è partita la rivoluzione. Dopo le sanguinose manifestazioni di piazza in Egitto, che hanno provocato 20 vittime, è questo l'ultimatum dell'esercito letto alla TV di Stato, che però nella notte trova il secco no del presidente Mohamed Morsi. Proseguirò la mia azione di riconciliazione nazionale, ha detto. I militari devono farsi da parte e non interferire con la vita civile del paese. Il presidente ha subito incontrato il ministro della difesa e capo delle forze armate, il generale Abdel Fattat al-Sisi, l'autore della dichiarazione letta alla TV e alla radio di Stato, e il premier Kwandil. Le forze armate egiziane respingono le accuse di un colpo di Stato e spiegano che il loro ultimatum è mirato a spingere le forze politiche a raggiungere un consenso. Inoltre, secondo fonti interne, si sono dimessi cinque ministri del governo di Morsi, i titolari del turismo, dei rapporti col Parlamento, delle telecomunicazioni, dell'ambiente e delle risorse idriche. Hanno presentato una lettera di dimissioni congiunta, spiegando di volersi unire i manifestanti e di essere contrari alla politica del governo. Caso DataGate. Sempre più tesi i rapporti diplomatici fra Europa e Stati Uniti e la questione rischia di complicarsi ancora di più dopo l'intenzione manifestata dalla talpa Edward Snowden di chiedere asilo politico alla Russia. Si complica, se possibile, la questione DataGate. Come se non bastassero i rapporti tesi come non mai tra Europa e Stati Uniti, cristallizzati dall'acuto di Hollande, che ha dichiarato lo spionaggio statunitense nei confronti del vecchio continente deve cessare, giunge l'intenzione da parte della talpa di chiedere asilo politico alla Russia. In realtà Snowden ha chiesto asilo politico a ben 15 nazioni, consegnando la lista ai russi. Mossa questa ritenuta disperata dopo il no dell'Equador è pertanto difficile da inquadrare da un punto di vista strategico. Ecco allora che la diplomazia si è messa al lavoro nel tentativo di trovare una soluzione. Gli Stati Uniti si affrettano a riferire che forniranno tutte le informazioni agli alleati sul DataGate. Washington, in questo modo, cerca di rassicurare il mondo dopo che i leader europei, a cominciare dal presidente italiano Giorgio Napolitano, hanno chiesto spiegazioni agli USA. In questo scenario, la richiesta da parte della talpa del DataGate, Edward Snowden, di chiedere asilo politico alla Russia, non rappresenta certo un elemento rassicurante. Washington e Mosca, di conseguenza, hanno incaricato i rispettivi servizi segreti di trovare una risposta accettabile alla complessa situazione. E ora torniamo in Italia, nella città del Vaticano. Prime dimissioni eccellenti in Egitto dopo giorni di tratta del direttore e del suo vice. Presentate dopo le prese di posizione del Santo Padre, volte a una profonda riforma dell'Istituto. Il successivo arresto di Monsignor Nunzio Scarano e il conseguente commissariamento della Banca. Le prime dimissioni eccellenti ai vertici dello IOR, l'Istituto per le Opere Religiose, di fatto la Banca del Vaticano, erano nell'aria e sono prontamente arrivate. Giungono dopo le importanti prese di posizione del Santo Padre, tese a riformare profondamente l'Istituto, e soprattutto dopo l'eclatante arresto di Monsignor Nunzio Scarano, proprietario di numerosi immobili e titolare di alcuni conti presso lo IOR e il conseguente commissariamento della Banca Vaticana deciso da Papa Francesco. A presentare le proprie dimissioni sono stati il direttore generale della banca, Paolo Cipriani, e il suo vice Massimo Tulli, dunque i vertici dell'Istituto. Le dimissioni quindi sono state accolte dalla Commissione dei Cardinali e dal Board di Sovrintendenza. La notizia, che certo non giunge in attesa, è stata diramata dalla Sala Stampa della Santa Sede, la quale aggiunge in una nota che le funzioni di direttore generale dell'Istituto sono state assunte ad interim dal presidente Ernest von Freiberg. Via Milano ieri sera, tragedia sfiorata all'aeroporto di Linate, dove un veivolo privato, un Cessna, proveniente dalla Germania, è diretto a Bresso e è atterrato sulla fusoliera per la rottura del carrello. Non sono gravi però le condizioni dei passeggeri. Tragedia sfiorata all'aeroporto di Linate a Milano. Ieri sera un piccolo aereo privato, un Cessna, proveniente da Straubing, Valmüller in Germania, in fase di atterraggio sulla pista di Linate, si è spezzato in due a causa del cedimento di un carrello. A bordo dell'aereo, che non ha preso fuoco, c'erano due persone, il pilota di 74 anni e un passeggero di 71. Entrambi soccorsi, ma non versano in grave condizioni. L'aereo, di proprietà di Mario Battistello, ex presidente dell'aeroporto di Bresso, dopo aver toccato terra con un solo carrello, si è appoggiato sulla fusoliera e si è spezzato in fase di atterraggio, finendo fuori pista. Questo ovviamente provocato ritardi sul traffico aereo. L'aeroporto infatti è stato chiuso per liberare la pista dei Rottami, causando il ritardo di circa un paio d'ore. A una cinquantina di aeree, i voli sono stati dirottati su altri scali. Attorno alle 23 comunque la pista è stata sgomberata, il traffico è tornato regolare. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta sull'incidente per determinare le cause dell'evento. Gravissimo episodio di sangue questa mattina all'interno del municipio di Cardano al Campo, col centro di 14 mila abitanti in provincia di Varese. Il sindaco Laura Prati, di 48 anni del PD, è stata ferita gravemente all'addome con tre colpi di pistola sparati da un vigile urbano, vicecomandante della stazione di Cardano al Campo, Giuseppe Daniele Pegoraro, di 61 anni. Ferito in maniera più lieve alla testa anche il vice sindaco, Costantino Diametti, che era nell'ufficio insieme al primo cittadino. Laura Prati è stata portata d'urgenza all'ospedale di Galarate, dove è stata sottoposta un interverso chirurgico all'addome. È grave, ma non in pericolo di vita, dicono fonti sanitarie. E torniamo alla politica italiana. La votazione per la vicepresidenza della Camera rischia di essere un ostacolo per gli equilibri interni al governo. Il Partito delle Libertà ha proposto il nome di Daniela Santanchè, ma il voto a scutrino segreto potrebbe regalare delle sorprese. È slittata per decisione della Camera dei Deputati l'elezione del vicepresidente, ruolo che aveva visto la candidatura da parte del Partito delle Libertà di Daniela Santanchè. Non è stato infatti trovato nella conferenza dei capigruppo un accordo sul rinvio richiesto dallo stesso PDL e dal PD. Con questa maggioranza tutto si rinvia e nulla si decide, ha scritto Santanchè su Twitter, un nome sul quale il centrodestra intende insistere, come spiega l'ex ministro dell'istruzione Gelmini. Al momento non è stato deciso, il PDL ha proposto in modo compatto il nome di Daniela Santanchè. Più volte abbiamo votato sempre con lealtà i candidati della sinistra e quindi ci aspettiamo che da parte della maggioranza ci sia altrettanta lealtà nel votare Daniela Santanchè come vicepresidente. Noi abbiamo indicato un unico candidato e siamo convinti che il nome di Daniela Santanchè sia il nome giusto. Rosati, esponente del PD, sostiene invece la bontà della decisione. Può essere utile a rassenerare il clima e anche a costruire delle condizioni perché il Parlamento poi possa lavorare con maggior serenità su temi importanti che abbiamo all'ordine del giorno in questa settimana. Mi sembra che inasprire su queste questioni non è mai utile, non è utile nemmeno al PDL. I democratici in caso di votazione avrebbero probabilmente votato scheda bianca diversamente da Selle e Movimento 5 Stelle pronti al voto contrario. Mentre il Paese muore questi partiti discutono Santanchè sì, Santanchè no. Poltrone sì, poltrone no. Noi riteniamo che invece bisogna discutere dei problemi dei cittadini e proprio per questo abbiamo chiesto un incontro a Napolitano per parlare dei problemi dei cittadini e dell'Italia. Ci aspettiamo che faccia funzionare il Parlamento e chieda al Parlamento di occuparsi dei problemi dei cittadini e non di discutere delle poltrone e degli accordi fra partiti. Non riteniamo che questa sia la priorità per il Paese. La politica non può dividersi su Santanchè sì, Santanchè no. Ma deve assolutamente parlare delle imprese che falliscono, delle famiglie che non riescono ad andare più avanti. Due pericolosi trafficanti internazionali di droga latitanti dal 2009 sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Roma. Si tratta di Vladimir Slaets, belga di origine croata, detto l'olandese di 40 anni, e suo fratello Boris. Il primo è stato individuato in un appartamento del quartiere pre-nestino alla periferia est della capitale, messo a disposizione da un connazionale. Boris Slaets invece è stato fermato quando è andato a Regina Cieli a visitare suo fratello. E sembra arrivata all'estate finalmente un inizio di luglio con temperature tornate nella media e si manterranno così per tutto il mese. Almeno così dicono gli esperti. Da domani sono previsti 30 gradi su tutta la penisola. Con l'arrivo del mese di luglio arrivano le temperature alte, il caldo, il sole e l'estate. Da domani sono previste massime superiore ai 30 gradi in tutta la penisola italiana. Grazie all'attenuazione delle fresche correnti settentrionali è una maggior protezione dell'anticiclone delle azzorre. Le temperature in queste ore quindi stanno gradualmente tornando attorno alle medie stagionali, seppur ancora con locali eccezioni, specie nelle regioni meridionali e adriatiche. Ancora le prese per poche ore con residui e correnti baltiche. Già per la giornata di oggi la colonina di Mercurio salirà con massime sulla pianura padana centro-orientale, zone interne e tirreniche e sud Italia che raggiungeranno i 28-30 gradi. Le temperature potrebbero essere ancora più roventi con possibili picchi fino a 32-34 gradi entro il fine settimana su zone interne e tirreniche, isole, Puglia settentrionale e pianura padana. Gli italiani quindi potranno abbandonare ombrelli e sciarpe tenuti forzatamente nell'armadio fino adesso e permettersi costume e tintarella per i prossimi giorni. E questa era l'ultima notizia e il nostro telegiornale finisce qui. Io vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci!